Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi vorrei parlarvi di una nuova modalità che molto probabilmente verrà implementata nel gioco Non è una notizia ufficiale in quanto la Epic non si è pronunciata su questo Ma è un'idea che ho letto su vari forum In previsione dell'uscita del gioco di Spider-Man Fortnite ha lasciato il rampino come sapete E si pensa stia organizzando una modalità appunto tematica Spider-Man Nel senso utilizzare il pompa e il rampino Questa cosa viene anche confermata da questo screenshot che vi metto qui Che è un leaks di un nuovo spray che uscirà Appunto ha la forma di un ragno E come sapete l'Epic li dà solo con la vincita di qualche modalità speciale O con il completamento di determinate sfide Quindi c'è una buona probabilità che questa modalità venga implementata in game Fatemi sapere se vi piacerebbe avere una modalità di questo genere E noi ci vediamo al prossimo video Bella Grazie a tutti Grazie a tutti.